del Ministero dell'Interno su questo. Guardi, ci sono tanti ambiti di ruberie che stanno venendo fuori e noi invitiamo la magistratura a ripulire dal marcio ovunque il marcio si trovi, senza guardare in faccia a nessuno. Quindi voi non farete niente in più? Noi abbiamo un potere di controllo a molte che abbiamo sempre esercitato e che continueremo ad esercitare. Grazie. Una domanda. Perché andiamo a sostituire un programma?